Diamo il benvenuto a Annalisa Santucci, credo che poi ci introdurrà altri ospiti. Annalisa, buongiorno. Siena Bioactive è uno spin-off dell'Università di Siena del Dipartimento d'Eccellenza di Biotecnologia, Chimica e Farmacia, quindi è un'azienda imprenditoriale a maggioranza e a leadership femminile che si è costituita all'interno dell'Università ed è nata, questa impresa, da un'attività di ricerca. È un caso in cui la ricerca si è fatta impresa. Le alghe infestanti della Laguna di Orbetello sono considerate rifiuti speciali. Qui abbiamo messo a punto un sistema di estrazione completamente diverso rispetto al riccio della castagna. Quello che abbiamo ottenuto è un estratto, anche questo in forma liquida, in questa volta, che ha dimostrato di avere delle potentissime capacità di attività biostimolante per l'agricoltura biologica.